Il dramma è avvenuto in questa palazzina di via Cesare Battisti a poche decine di metri dalla stazione dei Carabinieri di Cisternino. Una donna ha partorito nel bagno della sua abitazione e la bimba è nata morta o espirata subito dopo essere venuta al mondo. Sarà all'esame autoptico disposto dal PM di Brindisi Alfredo Manca ad accertare le cause del decesso e a che mese della gravidanza sia avvenuto il parto. Si ipotizza infatti che la madre di 34 anni che vive insieme ai genitori l'avesse tenuta nascosta sino all'ultimo. La donna subito dopo è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di ostetricia dell'ospedale Perrino di Brindisi a causa di una copiosa emorragia postpartum. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Nell'appartamento di via Battisti sono intervenuti i carabinieri della vicina caserma che hanno effettuato i rilievi tecnici. La bambina potrebbe essere nata prematura, forse al sesto o al settimo mese di gravidanza ma questo sarà il medico legale a stabilirlo. La donna pare avesse un compagno a Martina Franca che in serata è stato ascoltato dai carabinieri per sapere se fosse a conoscenza o meno di quella gravidanza così come i genitori. Una famiglia molto conosciuta in paese inserita nella comunità e che frequenta assiduamente l'istituto salesiano Sacro Cuore.